Ho trovato un ingresso. Non è stato facile, ma sto entrando. Vieni gli occhi aperti. Buona fortuna. Vieni gli occhi. 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 Criana. Qui è il Ministero della Difesa. Che cazzo? Ma che sta succedendo? Cos'è successo al GRE? La posizione del GRE è stata ridotta. Comandiamo noi ora. E a RAN è stata dichiarata un bersaglio prioritario. Aspetti, aspetti, aspetti un attimo. Non potete bombardare a tappeto questo posto. Ci sono ancora centinaia di innocenti. Forse migliaia. Irrilevante. Dobbiamo proteggere miliardi di vite. Se ne rende conto, vero? Sì, d'accordo. Ma ascolti. Ascoli, qui c'è uno scienziato di nome Zer che sta lavorando a una cura. Gli manca poco. Ho visto i risultati. Se bombardate la città... Ricevuto. Le possibilità che uno scienziato in una città in rovina ottenga risultati utili sono pressoché nulle. Ma... A quara... Merda, non si apre. Forse usando la forza... E' tutto fatto. Ecco fatto. Prendi questo! Uaah! 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 Uh! Uaah! Eh! Eh... EHEY! Uaah! Gabbè! Dio di puttana! Che cazzo di maru! E dove sei, vecchio mio? E dove sei, vecchio mio? Stai scherzando? Stai scherzando! Brecken, non ho trovato Zer all'interno. Palazzo! C'è un livello sotterraneo. Forse è là sotto. È pazzo da legare. Pazzo o meno! Voglio solo che non si incazzi con me. Chi è? Colpiselo! Chi scherza? Chi scherza? Eccoti qui! E qua su! Chi scherza? Chi scherza? Chi scherza? Chi scherza? Grazie per la visione! Oh! 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 Tutto qui! Oh! No! Morirà! Questo hai sentito! Fuoco! Fuoco! Fatti vedere! Fuoco! 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 Grazie.